Salve a tutti, abbiamo concluso la settimana scorsa con un gioco gratuito e continuiamo questa settimana con un altro gioco gratuito recentemente uscito su Steam nella sua versione, non c'è partecipato, sta parlando di Unturned il gioco survival sviluppato da una sola persona nel nome di Nelson Sexton e questo gioco come detto è un titolo gratuito che a mio modo di vedere è una parola migliore di free to play e si concretizza anche come un gioco gratuito ma non manca anche la parte a pagamento di cui magari vi specificherò le condizioni più tardi Dunque Unturned come detto prima è un gioco survival molto simile a titoli come DayZ soprattutto nella sua versione mod nella mod di DayZ perché l'attuale versione standalone è ancora piuttosto incompleta come detto prima è un gioco nel quale voi vi ritroverete da soli all'interno di una landa desolata al momento il gioco permette due mappe, una appunto dedicata al survival e un'altra invece dedicata al PvP in stile Hunger Games per spiegarci meglio in questa landa desolata voi sarete alla balia delle intemperie e della sopravvivenza nuda e cruda contro un grande esercito di zombie ovviamente quello che dovrete fare per sopravvivere sarà quello di ricercare risorse stiamo parlando di cibo, cose da mangiare e da bere stiamo parlando di medicine e di bendaggi nel caso in cui siate feriti o abbiate bisogno di curarvi in qualche modo o di diminuire il vostro stato di infezione perché c'è anche una barra interessante che nel caso in cui veniate morsi o colpiti da degli zombie aumenterà indicando il vostro tasso di infezione o intossicazione come volete vederla e con delle vitamine o con delle altre medicinali riuscirete ad abbassare questo stato e questo livello ovviamente non mancano anche le barre della salute, la barre dell'energia e quant'altro e oltre ovviamente al cibo e al cosa da bere vi serviranno anche attrezzature stiamo parlando di zaini che vi permetteranno quindi di portare con voi un maggiore quantitativo di loot, armi di vari tipi possiamo andare dalla mazza da baseball, alle pistole, alla katana o alla motosega o ai fucili militari di alto livello e via discorrendo tutta questa combinazione di cose vi porterà a cercare di sopravvivere in questo ambiente ostile contro degli zombie che sono piuttosto problematici in quanto alcuni possono anche essere veloci ma soprattutto sono molto dannosi in quanto vi faranno veramente molto danno nel caso in cui vi colpissero quindi non dovete troppo scherzare con questi tipi di zombie soprattutto con quelli che strifiano a terra perché sono un po' più difficili da colpire rispetto a quelli in piedi altra cosa interessante che porta con sé unturned è la possibilità di viaggiare nella mappa con dei veicoli veicoli che potremo trovare in diverse condizioni alcuni saranno completamente distrutti altri saranno leggermente difettati altri invece saranno in buone condizioni ma magari saranno a corto di benzina e avremo la possibilità nel caso in cui ci trovassimo in una zona specifica di trovare delle tanniche di benzina e di riempirle ai vari serbatoi che potremmo trovare ad esempio nelle basi militari o in certi luoghi come fattorie e quant'altro così potremmo fare il pieno alla macchina o comunque sfruttare questi veicoli per il quantitativo di benzina che hanno a disposizione quindi per i geometri che hanno di autonomia oltre a questo abbiamo la possibilità di fortificare gli edifici in cui ci troviamo con delle tavole di legno o con altro tipo di materiale il fatto è che ovviamente per fortificarsi c'è anche bisogno di difendersi da qualche cosa e nel caso in cui siete attaccati da degli zombie da un'orda di zombie che viene addosso non avete il tempo materiale di bloccare porte e finestre prima che l'orda arrivi più che altre fortificazioni sono pensate per il multiplayer multiplayer che in questo momento in Unthorn è disabilitato stiamo parlando di un gioco ancora in sviluppo e non è del tutto completo anche se ci sono le gran parti delle sue funzioni però il multiplayer non è ancora aperto a tutti c'è la possibilità di allestire una partita con amici in una sessione locale ma non si può giocare online contro altri giocatori ma quando verrà attivata questa possibilità il gioco sarà ancora più simile a DayZ in tutte le sue caratteristiche infatti ogni giocatore potrà fare quello che vuole e decidere l'atteggiamento da avere rispetto agli altri giocatori se essere amichevole o bandito o se fare una metà via ci sarà possibilità di aggregarsi con dei gruppi e di quindi girare la mappa con vari tipi di atteggiamenti e di obiettivi insomma questo gioco è una scoppiazzatura se vogliamo dirla così di appunto un titolo come DayZ in quanto almeno personalmente non ho visto nulla di così diverso rispetto a quel gioco non c'è nulla di così originale, nuovo o innovativo che mi faccia pensare che lo sviluppatore Nelson Sexton abbia preso quel concetto visto in DayZ e in altri giochi simili e abbia voluto reinterpretarlo in un altro modo semplicemente ha voluto fare un gioco identico che però fosse gratuito e con una grafica ovviamente molto basilare e per certi versi abbastanza brutta se non per alcuni riflessi di luce e della superficie dell'acqua per il resto insomma il gioco graficamente e anche tecnicamente dal punto di vista del sonoro è piuttosto scarso e povero in questo momento quindi sinceramente non vedo proprio il motivo dell'esistenza di Unturned se no per il fatto che propone quello che propone DayZ solo che in un modo un po' più illimitato e ristretto e gratuitamente sto parlando di gratuito e non di free to play per un semplice motivo la parte a pagamento di Unturned prevede l'acquisto con 5 dollari se non sbaglio di un account gold di un account d'oro questo account gold ci permetterà di accedere ai server gold quando saranno attivi e all'interno di questo server gold oltre ad avere qualche elemento estetico in più che non fa grande differenza giocare all'interno di server gold permetterà agli possessori di questo account di avere più loot avere più esperienza e in generale avere più bonus però appunto solo all'interno di server gold quindi questo mi fa capire che se questi giocatori gold entrassero in un server normale non avranno i vantaggi del loro account e quindi giocheranno alla pare con i giocatori non paganti e questo mi sembra un'ottima cosa il senso di scoppiazzatura che mi ha ispirato Unturned è sottolineato dal fatto che c'è praticamente lo stesso loot gli stessi oggetti che si possono trovare anche in TZ nonostante in Unturned alcuni di questi oggetti non sembrano essere particolarmente utili o fare la differenza come ad esempio le luci chimiche o altri tipi di fonti di luce che di cui non c'è bisogno in questo gioco nel quale anche la notte nel buio più profondo si può vedere benissimo anche a una buona distanza e non ci sono così tanti dettagli da illuminare con le luci chimiche bastano ad esempio le torce i fari delle macchine o i flare ci sono anche i flare volendo ci sono tante altre cose che fanno pensare a una scoppiazzatura pari pari a il titolo alla mod originale di DayZ altra cosa che invece mi fa particolarmente impressione è quando voi andrete a personalizzare le vostre armi perché c'è la possibilità di aggiungere dei pezzi alle vostre armi che miglioreranno l'accuratezza come i mirini o dei grip anteriori o altro ancora premendo T appunto entrerete nella modalità di personalizzazione delle armi che è identica proprio copiata pari pari a quella di Crysis se ve la ricordate infatti personalizzare le armi significava guardare l'arma lateralmente con tutte le icone che si collocavano sui diversi punti dell'arma e visualizzavano i vari pezzi che si potevano montare o smontare qui è la stessa identica cosa solo con appunto la versione di Untold e che conferma ancora il fatto che questo Nelson Sexton abbia voluto ricreare qualcosa di uguale agli altri senza aggiungere nulla di nuovo soltanto per raggiungere un maggior quantitativo di pubblico grazie a questo elemento di gratuità comunque questa è solo la mia opinione voi potete benissimo andare su Steam nella versione accesso anticipato scaricarvi il gioco e provarlo voi stessi e darmi la vostra opinione se quello che dico io magari è sbagliato o non corrisponde al vero o magari ci sono delle sfumature o cose che non ho colto aspetterò più avanti anche per provare la versione diciamo multiplayer quando verrà attivata perché sicuramente avrà un po' più di profondità e di interesse rispetto al al semplice survival single player io comunque spero che il video vi sia piaciuto lasciate dei commenti qui sotto come ho detto prima andate a scaricarlo e provarlo di persona iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale ciao ciao